Abbiamo visto coinvolto i due contendenti in amore, il fidanzato una volta avendo scoperto appunto questa relazione extraconiugale preso dalla rabbia si è presentato dal suo rivale in amore e dopo aver sfondato la porta ha trovato lui con un fucile che ha esploso un colpo fortunatamente non colpendo nessuno, non ferendo nessuno. Nonostante la zona è densamente popolata, nonostante il frastuono perché si è creato veramente tanto frastuono nessuno ha allertato le forze dell'ordine e solo uno dei contendenti in amore è fuggito per paura una volta che ha sentito il colpo d'arma da fuoco ha intercettato una pattuglia dei carabinieri che stava pattugliando il centro abitato e proprio lì ha chiesto aiuto.